Ben ritrovati all'aggiornamento con le tendenze a meglio lungo termine di Trebimeteo. Dopo una settimana che si pronuncia ancora dal sapore tipicamente estivo, specie al centro-sud e con temperature che raggiungeranno facilmente i 30 gradi, vediamo come verso la fine settimana, dunque verso il weekend prossimo, tra il 19 e il 21 settembre, avremo probabilmente il transito di un fronte perturbato sull'Europa centrale e che lambirà anche l'Italia. In questo frangente avremo fenomeni più probabili sulle Alpi, sui settori orientali del nord, ma anche su Toscana e settori adriatici, avremo qualche equazione, qualche temporale in transito. Il tempo invece migliorerà rapidamente al nord-ovest per via della rimonta di questo promontore anticiclonico, questa volta di matrice azzoriana, quindi che porterà bel tempo ma temperature non così elevate, comunque una fase di bel tempo che potrebbe proseguire per gran parte della terza decada di settembre. Per tutti gli aggiornamenti comunque restate con noi su trebimeteo.com. Per tutti gli aggiornamenti di settembre,